è sport solo su rete sport anche per questa stagione rete sport ti invita a seguire tutte le partite in trasferta della s roma nel nostro studio olimpico segui 105 e 6 e la fan page su facebook per scoprire come partecipare alla diretta solo con rete sport la radio dei tifosi giallorossi è sport solo su rete sport